Addio ad Anna Rita Luceri, comica del trio, Ciciri e Tria, che era riuscito a calcare il palcoscenico di Azzelighe e di altri show televisivi tra cui Tu si che vales. L'attrice cantante, originaria di Martano, si è spenta 48 anni a causa di una malattia fulminante che, stando a quanto riporta Quotidiano di Puglia, l'era diagnosticata 10 giorni fa. Fonti vicine alla famiglia rivelano che da giorni la donna si trovava in un stato soporoso in seguito a uno stato febbrile molto alto e prolungato, aggiunge, fanpage.it, sarebbe stata disposta l'autopsia per accertare con chiarezza le cause della morte. Anna Rita Luceri, Photo Face, Anna Rita Luceri, Photo Face, le altre componenti del trio, Stretta Noesem, due anni fa, Anna Rita Luceri aveva lasciato il trio comico che aveva costituito nel 2000. 2004 insieme a Carla Calò e Francesca Sanna e che era diventato popolare per gli sketch incentrati sulle pie donne impegnate in preghiere e improbabili cantilenate in Salentino. Le due compagne d'avventura la ricordano sui social con una foto che le ritrae tutte insieme. Stretta a noi sempre, recita la didascali, i post apparso sulla pagina Facebook del trio, Ciciri e Tria, Anna Rita Luceri, Photo Face, i post della sorella, Custodiremo i doni che ci hai lasciato, Anna Rita nostra, avremmo dovuto capirlo dalla luminosità dei tuoi occhi, dalla generosità del tuo sorriso, dalla profonda dolcezza della tua voce, dalla minuziosa precisione con cui facevi ogni cosa, dimostrandoci di aver conosciuto l'armoniosa geometria dell'universo. Che tu non eri di questo mondo scrive su Facebook Maria Rosaria Luceri, sorella della comica Salentina custodiremo i doni che ci hai lasciato, il tuo amore di moglie e mamma, la tua devozione di figlia e sorella, l'amicizia di cui eri capace, come segni preziosi di quanto Dio ci abbia amato, e leggendoci come tua dimora terrena per questi 48 anni. Accompagnata da Maria Santissima Assunta in cielo, bentornata a casa, creatura celeste.